Comincerà venerdì 7 ottobre la fiera San Cataldo. Per cinque giorni infatti, fino a martedì 11 ottobre, la zona di Santa Germana ospiterà le bancarelle e le giostre, interessando anche parte di Viale dei Platani e Viale dei Tigli. Stamattina insieme alle organizzazioni di categoria siamo finalmente giunti alla definizione di tutti i dettagli per la collocazione nei prossimi giorni delle bancarelle e degli spettacoli viaggianti, scrive sui social il primo cittadino sancataldese. Un lavoro durato mesi che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, uffici comunali, attività commerciali e associazioni di categoria. La scelta del sito era stato infatti un tema dibattuto nei mesi passati, avendo optato per una zona diversa da quella in cui la fiera si era svolta negli anni precedenti, per motivi legati alla viabilità e alla sicurezza. Intanto la città attende questo momento di festa dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia e stando alle graduatorie pubblicate sul sito del comune sarebbero un centinaio gli operatori. Tra giostre, settore alimentare e non, le cui stanze risultano ammesse e che dunque dovrebbero prendere parte alla manifestazione.